Buongiorno, nuovo appuntamento con la rubrica lo sapevi che dopo due mesi dall'ultimo articolo in cui ho pubblicato e che ho condiviso qui anche sulla pagina ho pubblicato qui sul canale e ho pubblicato anche sul mio blog www.maurogadavetta.it dopo due mesi appunto l'ultimo articolo era, vi avevo parlato dei mezzi cavacantieri dopo l'inizio della nuova mia attività lavorativa avevo affrontato il discorso dei mezzi cavacantieri visto che è il settore in cui adesso mi trovo dopo due mesi affronto un altro argomento riguardante questo mio settore lavorativo ovvero il bitume allora il bitume più comunemente riconosciuto come asfalto è appunto quel materiale che si trova sulle strade io ovviamente prima di intraprendere questa esperienza lavorativa non mi ero mai informato, non avevo mai preso in considerazione il sapere su come è fatto e le varie caratteristiche dal bitume facendo questo lavoro da questa azienda che è appunto produttrice di bitume e di calcestruzzo ho tenuto giusto affrontare questo materiale, il bitume poi sarà la volta del calcestruzzo ho scritto un articolo sul bitume che è scritto sul mio blog www.maurogadeletta.it e nel commento, nella descrizione del video ci sarà il link per poterlo leggere e qui, nella rubrica lo sapevi che, lo vado a leggere insieme a voi il bitume, la strada delle nostre infrastrutture il bitume, comunemente conosciuto come asfalto svolge un ruolo cruciale nelle infrastrutture moderne il bitume è un prodotto derivato dal petrolio ottenuto attraverso il processo di distillazione le sue caratteristiche principali includono viscosità, adessione, elasticità e resistenza alle condizioni atmosferiche queste caratteristiche lo rendono un materiale ideale per la costruzione di strade piste ciclabili e aree di parcheggio durante il processo di raffinazione del petrolio il bitume emerge come un residuo viscoso, spesso denominato bitume pesante questo residuo subisce ulteriori trattamenti per ottenere il bitume utilizzato nelle costruzioni di strade e in altri settori dal punto di vista chimico, il bitume è composto principalmente da idrocarburi con un'elevata concentrazione di composti organici questa composizione conferisce al bitume le sue caratteristiche uniche tra cui la resistenza agli agenti atmosferici la presenza di molecole aroma, aromatiche e alifatiche contribuisce alla stabilità e alla durabilità del materiale il bitume è ampiamente utilizzato per la produzione di asfalto un materiale fondamentale nella costruzione di strade e autostrade la sua resistenza e durabilità lo rendono adatto per sopportare il carico del traffico veicolare esso viene utilizzato anche per segillare e riempire crepe nelle strade esistenti contribuendo a prolungarne la durata e a garantirne la sicurezza grazie alla sua natura impermeabile, il bitume è impiegato per la realizzazione di membrane impermeabilizzanti utilizzate in tetti, fondazioni e strutture sotterranee nonostante però le sue qualità vantaggiose, il bitume può avere impatti ambientali significativi 1. Emissione di gas serra la sua produzione comporta l'emissione di gas serra durante il processo di raffinazione del petrolio ciò contribuisce ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico 2. Consumo di risorse naturali l'estazione e la raffinazione del petrolio per produrne bitume richiedono notevoli quantità di risorse naturali non rinnovabili 3. Smaltimento e riciclo la gestione dei rifiuti di bitume rappresenta una sfida poiché il materiale è difficile da smaltire e il riciclo è complesso ciò può portare a accumuli di rifiuti in discariche proprio per diminuirne i suoi effetti negativi numerose sono le tendenze futuristiche la continua innovazione nel settore mira a rendere il processo di produzione sempre più sostenibile e a ridurre l'impatto ambientale associato a questo prezioso materiale 3. Sostenibilità ambientale il futuro si configura in una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale le industrie stanno esplorando nuovi approcci per ridurre l'impatto ambientale della produzione del bitume compresa la ricerca di fonti alternative e l'adozione di tecnologie più pulite 4. Bitume riciclato una delle prospettive più promettenti è l'utilizzo di bitume riciclato le tecnologie di riciclo avanzate consentono di riutilizzare bitume provenienti da vecchie strade riducendo i rifiuti e contribuendo a una circolarità più efficace nei materiali stradali 5. Materiali innovativi le ricerche si concentrano anche sulla creazione di nuovi materiali compositi integrando il bitume con sostanze innovative questi materiali potrebbero migliorare la resistenza, l'efficacia e la sostenibilità complessiva delle infrastrutture stradali 6. Bitume autoriparante tecnologie emergenti stanno esplorando la possibilità di sviluppare bitume autoriparante questo permetterebbe alle superfici stradali di riparare piccoli danni aumentando la durata e riducendo i costi di manutenzione monitoraggio e manutenzione intelligenti il futuro del bitume non riguarda solo il materiale stesso ma anche l'adozione di sistemi intelligenti per il monitoraggio delle condizioni stradali sensori e tecnologie di manutenzione predittiva possono contribuire a estendere la vita utile delle strade e ottimizzare gli interventi di riparazione il processo di produzione del bitume è diviso in diverse fasi 6. Distillazione del petrolio il petrolio grezzo viene sottoposto a distillazione frazionata un processo che separe diversi componenti del petrolio in base alla loro temperatura di ebollizione 7. Cooking il residuo pesante ottenuto dalla distillazione, noto come bitume grezzo, viene sottoposto a cooking questo processo termico rompe le molecole più grandi producendo bitume più leggero 8. Modifiche chimiche il bitume, così ottenuto, può subire ulteriori modifiche chimiche per migliorare la sua proprietà come la resistenza alle temperature elevate o la capacità di adesione 9. Miscelazione e raffinazione il bitume può essere miscelato con altri additivi per migliorare la sua lavorabilità e durabilità la raffinazione finale porta alla produzione di bitume pronto per l'uso della costruzione 9. Nelle fasi della nascita dell'asfalto entrano in gioco anche altri inerti, ovvero materiali granulari che vengono mescolati con il bitume stesso per formare l'asfalto finale 10. Questi inerti sono comunemente divisi in due categorie principali 11. Aggreganti grossolani e aggreganti fini 11. Aggreganti grossolani 12. In questa categoria troviamo materiali più grandi come ghiai e pietrisco gli aggreganti grossolani forniscono la struttura di base dell'asfalto conferendo forza e resistenza meccanica al materiale finale 12. Aggreganti fini 12. In questa categoria troviamo materiali più piccoli come sabbia e polvere di pietra 13. Gli aggreganti fini contribuiscono a riempire gli spazi tra gli aggreganti grossolani migliorando la lavorabilità del bitume e contribuendo alla finitura superficiale dell'asfalto 14. Gli inerti svolgono diversi ruoli chiave nel bitume contribuendo a conferire all'asfalto le sue caratteristiche uniche 14. Forza strutturale 15. Gli aggreganti grossolani forniscono forza strutturale all'asfalto consentendoli di resistere alle sollecitazioni del traffico veicolare e alle variazioni climatiche 15. Stabilità termica 16. La combinazione di aggreganti grossolani e fini contribuisce a una stabilità termica consentendo all'asfalto di espandersi e contrarsi senza compromettere la sua integrità strutturale 16. Resistenza all'usura 16. Gli inerti contribuiscono anche a conferire resistenza all'ussura dell'asfalto prolungandone la durata e riducendo la necessità di manutenzione frequente 16. Gli aggreganti fini migliorano la lavorabilità del bitume facilitando la miscelazione e la pose dell'asfalto durante la costruzione di strade 16. Il bitume dà un'origine nel cuore della terra 16. Svolge un ruolo insostituibile 16. La sua versabilità lo rende una risorsa inestimabile per collegare il mondo attraverso le strade 16. La sua versabilità lo rende una risorsa inestimabile per collegare il mondo attraverso 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 le strade